Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ingherese con sottotitoni slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? 590 minuti e qualcosa di più. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Grazie. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Aaron Ramsey. È diventato un centrocampista davvero completo. Ha sempre dimostrato di avere grande tecnica. Ultimamente però è diventato davvero devastante negli inserimenti palla al piede. Sono d'accordo e immagino che saranno d'accordo anche molti tifosi di questa squadra. La partita è iniziata. Matuidi. Ramsey. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Taxidis. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Meccariello. Taxidis. La gioco è in profondità. Bentancur. Bonucci. Con l'intercetto. Matuidi. C'è la palla lunga. In avanti. Rispoli. Lucioni. Falco. Rispoli. Falco. Babacca. Babacca. È un grande riflesso qui. Si esprime in un buon intervento. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Smanaccia. Via, via il pallone. Recuperano il possesso del pallone. Falco. Passaggio sulla destra. Sarà comunque rimesse in gioco con le mani. La gioca lunga sulla fascia opposta. Ramsey. Arriva Cristiano Ronaldo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Quadrado. Ramsey. Prova a giocarla in profondità. Non riesce a mantenere il possesso. Di bala con una buona possibilità. C'è un'opportunità. Ramsey è l'autore del fallo. Il portiere la calcia lontano. La Juventus. Finora non ha mai tirato in porta. Ecco Bernardeschi. Grande prova di forza. Cristiano Ronaldo. E c'è il gol della Juve. Prima rete per la Juventus. La Juventus ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. La Juventus si porta in vantaggio. 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Di bala. Cristiano Ronaldo. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Sbroglia la situazione. Prova a tirare. La allontana con forza. Quadrado. Cerca l'uomo là davanti. C'è spazio per cacciare. Scodella in avanti. Opportunità di ripartire. Un solo gol a referto. Fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova a prolungare in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. La mette in avanti. La gioca sulla destra. Scatta verso il pallone. Posizione regolare. Cross verso il centro. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'estremo difensore. La calcia lunga. Ed ecco che arriva Ramsey. Bernardeschi. Cerca lo spunto a tentare la conclusione. Infizza il portiere. Mi hanno voluto un altro. Adesso lo possono gestire con più calma. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante. Per poi partire al momento giusto. Due gol di vantaggio e partita in discesa. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Rispoli raccoglie un passaggio dalle retrovie. Falco allarga il gioco a destra. Occhio al cross. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Pallone lungo in verticale. Prova a verticalizzare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Taxidis. Lungo passaggio in avanti. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ramsey. Bentancur. Bernardeschi. Pallone promettente. Il difensore può spingersi in avanti. Di bala. Palo. Tenta di calciare. Bella parata. Che parata. Certo non un intervento di routine. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Libera tempestivamente. Ramsey. C'è il tiro. Bel tiro sul quale peraltro si dite il primo tempo. La Juventus aveva creato un'occasione interessante poco fa ma senza riuscire a capitalizzarla per l'incredulità dei diposi. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita. Ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Arriva Cristiano Ronaldo. La mette in mezzo. Ci mette una pezza. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Quadrado. Ramsey. Rabiou. A sinistra con il passaggio. Provano a partire in velocità. Falco. Babacar. Rabiou. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sembrano avere eretto un muro in difesa. Tenta di allontanare il pallone. Ramsey. Cristiano Ronaldo. Ecco il tiro. E arriva il gol. Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Il portiere ha fatto il possibile ma lui non si è fatto beffare. Ha depositato il pallone in porta con un bel gesto tecnico. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. 3-0 dunque. Meccariello. Rispoli. Scodella in avanti. Baba. Occhio. Parata di Scesni. E il portiere compie una splendida parata. Va di testa. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. C'è la palla lunga in avanti. Se ne va. Calcio di punizione per la Juventus. Finisce sul referto dell'arbitro con una munizione. Si arrabbia. Questo cartellino non lo vuole proprio ma l'arbitro ha le idee chiare. Cercherà sicuramente il cross in mezzo da qui. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. E il portiere dice di no. Rabbio. Possibilità di tiro. Un pressing che non definirei asfissiante. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. Però il tiro. La mette in rete. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa. L'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Partita saldamente nelle loro mani. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Palla in avanti verso il compagno. Mette il turbo. Bernardeschi. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Babacar, il suo pallone è morbido. Falco. Non hanno trovato Varchi. La difesa era sempre pronta. Errore qui, pallone sprecato. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. La scarsa è una scarsa. C'è un altro cambio. La scarsa è un altro cambio. sta dentro e va a colpire di testa, è il colpo di testa ma il gol non c'è, manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento, arriva Cristiano Ronaldo, occhio può andare, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo colpisce, splendida reazione del portiere, sembra che il mister voglia fare un altro cambio, Ramsey, pronto al tiro, pallone che finisce sul fondo, sapeva esattamente cosa fare ancora prima che gli arrivasse la palla, si è coordinato bene ma ha sbagliato la conclusione lo stesso, non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo, Bentancur, De Iola, Saponara, scatta verso il pallone, De Iola riceve in posizione interessante, può metterla in mezzo, Saponara, può andare alla conclusione, contrasto molto deciso, qui deve tirare, ha segnato, ha segnato, si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro, la difesa ha pasticciato e lui li ha puniti, L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche, lascia il campo, oggi si è fatto valere ed è entrato nel tabellino dei marcatori. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Bentancur, Pericolo! La gara entra negli ultimi 5 minuti, prova a scalaccare avversari con una palla lunga. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Si libera della palla ed evita complicazioni. Bentancur... Ramsey! Alla peggio nello scontro di forza. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Matuidi... Costa... Douglas Costa... Prova a salire sulla fascia sinistra. Può colpire! De Iola... Babacar vuole la palla. Meccariello... Gioca una palla lunga. Cerca il secondo palo! Nooo, troppo lungo il passaggio. E c'è il buato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Molte cose positive oggi direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi Luca. La Juventus...